Una nuova sfida al governo centrale di Madrid, ma questa volta con un vero e proprio referendum di autodeterminazione che in caso di voto affermativo, secondo i suoi promotori, avrebbe la conseguenza giuridica di rendere la Catalogna un nuovo stato indipendente dalla Spagna. A lanciarla è stato il Parlamento della Catalogna, la regione autonoma che, con una lingua e identità nazionale propria, negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente l'indipendentismo. A favore di una separazione dal resto della Spagna, secondo i sondaggi, sarebbe ormai circa la metà della popolazione catalana, che conta 7 milioni e mezzo di abitanti, mentre circa il 75% vorrebbe poter votare in un referendum sull'indipendenza. La legge per organizzare il referendum è stata approvata con 72 voti a favore e 11 astensioni su 135, mentre i deputati dell'opposizione unionisti hanno abbandonato l'aula, lasciando sugli scranni una triste fila di bandiere mute spagnole e catalane. Carles Puigdemont, presidente del governo autonomo della ha annunciato. Convoquem per tant els ciutadans del nostro país a decidir de quina manera consideren que cal orientar al futur de Catalunya. Si per l'actual camí de l'autonomia i l'Estatut retallat o si per un nou camí com a estat independent en forma di repubblica. È una decisione che corrispondrà a prendere a la gente, no a cap tribunal, no a cap consell de ministres, no a cap tribunal constitucional deslegitimat, desprestigiat i politizzat fins a nivells impropis d'una democràcia. Un referendum, secondo la Costituzione spagnola, potrebbe essere indetto soltanto dal governo centrale e inoltre avrebbe valore solo consultivo. A Madrid, il capo del governo conservatore, Mariano Rajoy, ha convocato con urgenza il Consiglio dei Ministri per affrontare la crisi politica in atto e ha incontrato i leader delle opposizioni nazionali, fra cui i socialisti del PSOE. Rajoy ha anche confermato che il governo chiederà l'intervento della Corte Costituzionale perché annulli la legge approvata dal Parlamento catalano, mentre i sindaci dei comuni catalani saranno avvertiti del loro obbligo di impedire o bloccare ogni tentativo di far svolgere il voto. La procura generale spagnola ha, nel frattempo, annunciato di voler perseguire penalmente tutti i componenti del governo regionale catalano e anche i responsabili del Parlamento regionale che hanno facilitato l'adozione del provvedimento che regola l'organizzazione del voto. Un approccio di gestione per via giudiziaria di questa vicenda politica già adottato in passato con la condanna all'interdizione per due anni dai pubblici uffici dell'ex presidente catalano Artur Mas, giudicato colpevole per aver organizzato una consultazione informale non vincolante sull'indipendenza nel 2014.